Come attivare l'autenticazione a due fattori in SmartPass Google 2FA è il metodo principale di autenticazione a due fattori in SmartPass. È un metodo di autenticazione comodo e conforme agli standard di sicurezza internazionali. L'attivazione di Google 2FA è un prerequisito per effettuare payout nei nostri prodotti. In questo tutorial vedremo come abilitare Google 2FA come metodo di autenticazione a due fattori. Vai su SmartPass e accedi alla sezione Security. Scarica Google Authenticator sul tuo smartphone. Per avviare l'autenticazione devi scansionare il codice QR sul lato destro dello schermo utilizzando l'applicazione mobile installata. Per farlo accedi all'app. Nella prima schermata clicca sul pulsante Get Started. Poi seleziona Scan QR Code nella finestra comparsa. Scansiona il codice QR sulla pagina di attivazione e clicca su Continue. Successivamente l'app Google Authenticator sul tuo smartphone mostrerà una riga con una password monouso che viene aggiornata continuamente. Il timer di validità del codice viene mostrato a destra del codice sotto forma di diagramma torta. Inserisci la password monouso nella pagina di conferma del 2FA. Fatto! Hai attivato Google 2FA. Tieni presente che solo tu hai accesso al codice QR della pagina di attivazione. Non mostrarlo o inviarlo a nessun altro. Se hai bisogno di disattivare l'autenticazione a due fattori tramite Google, ad esempio se cambi smartphone, contatta il nostro team di assistenza. Ti consigliamo di non ritardare l'attivazione di Google 2FA perché da essa dipende la tua sicurezza nell'utilizzo dei prodotti Ultima.